Ciao Giulia, mi parli della Terra? Sì, 4 miliardi e mezzo di anni fa si è formata la Terra. All'inizio la Terra era una massa di gas e polveri incandescenti. Col tempo si raffreddò e in superficie si formò la crosta terrestre. Ma sotto la crosta terrestre c'erano ancora materiali incandescenti che uscivano dai vulcani sotto forma di lava, gas e vapore acqueo. Con questi si formarono enormi nuvole che portarono grandi piogge che formarono erano mari e oceani. Dopo le grandi piogge, G.V. era un unico enorme continente che si chiamava Pangea che voleva dire che era tutta Terra. Questo era circondato tutto da un unico mare chiamato Pantalassa che significava tutto mare. Col passare del tempo col passare del tempo la Pangea si separò fino a formare essi separò in grandi blocchi fino a formare le varie continenti. Questo spostamento chiamato deriva dei continenti continua ancora oggi.